Un morto e tre feriti. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio alla periferia di Foggia sulla Tangenziale, nei pressi dello svincolo per il villaggio Artigiani. La vittima è una donna di 70 anni, Adelia Fusco, che era a bordo di una Peugeot 307, che per causa ancora da accertare è attamponato con un furgone Fiat Tiveco Daily. L'incidente è avvenuto alle 18.30. La Peugeot era condotta da un'altra donna, mentre sul furgone vi erano due uomini. Nel violetto impatto, la Fusco, che era sul sedile anteriore accanto al guidatore, ha sbattuto violentemente il capo ed è morta all'istante. Ferita l'altra donna, che era la guida del mezzo, accompagnata dal pronto soccorso degli ospedali uniti di Foggia, è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Hanno riportato invece lesioni e ferite di poco conto i due uomini che viaggiavano a bordo del Daily.